E allora è cominciata gli ultimi 5 minuti del 2014, siete pronti? Vai con le mani! Siete pronti? Andrea! Siete, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, buon anno! E allora è cominciata gli ultimi 5 minuti del 2015 mentre vanno sulle lanterte! Francesco, è una bella serata di festa! La festa è in piazza grande, è una piazza la più bella di Arezzo che torna a vivere e saluta degnamente il 2014? Direi di sì, è una straordinaria festa di popolo, purtroppo qualche problema legato a degli imbecilli che hanno lanciato dei petardi in mezzo alla piazza. Detto questo, la festa è andata benissimo, la piazza è strapiena di gente, in un momento difficile come questo, una serata di divertimento male non fa e quindi buon 2015 a tutti gli aretini, a tutte le aretine, sperando in un anno migliore da tutti i punti di vista!